Leo. Leo meritava un cappello da somaro. Se avessi usato il cervello, avrebbe cambiato il sistema di rilevamento della nave da radar a sonar non appena avevano lasciato il porto di Charleston. Ecco cosa si era dimenticato. Aveva progettato lo scafo, in modo tale che risuonasse a intervalli di pochi secondi, inviando onde nella foschia e allertando Festus della presenza di mostri nei paraggi, ma funzionava solo in una modalità alla volta, acqua o aria. Era rimasto talmente scosso prima dai Romani, poi dalla tempesta e infine da Hazel, che se n'era completamente dimenticato. E adesso c'era un mostro proprio sotto di loro. La nave si inclinò a dritta. Hazel si aggrappò al sartiame. Edge gridò, Valdés, quale pulsante fa saltare in aria i mostri? Prendi il timone! Leo salì sul ponte inclinato, riuscì ad afferrare il parapetto di Bavordo e cominciò a inerpicarsi verso il timone camminando di spieco. Ma quando vide affiorare il mostro, per un attimo dimenticò perfino come ci si muoveva. Quella creatura era lunga quanto la nave. Al chiarore della luna sembrava un incrocio tra un gambero gigante e uno scarafaggio. Aveva il guscio rosa, una coda piatta ad aragosta e un numero indefinito di zampe da millepiedi, che ondulavano in modo ipnotico, rattando lo scafo del Largo 2. La testa del mostro emerse per ultima, il viscido muso rosa di un enorme pesce gatto, con gli occhi vitri, le fauci spalancate e senza denti. Una foresta di tentacoli spuntava da ogni narice, creando il naso più peloso e il figlio di Efesto avesse mai avuto il dispiacere di ammirare. A Leo tornarono in mente le cene speciali del venerdì sera che lui e sua madre facevano in un ristorante di pesce a Houston. Mangiavano sempre gambieretti e pesce gatto. A ripensarci, in quel momento gli veniva il volta stomaco. «Forza, Valdés!» gridò Hedge. «Afferra il timone, così io posso prendere la mazza da baseball!» «Non credo che la mazza ci aiuterà molto!» replicò Leo, dirigendosi comunque verso il timone. Dietro di lui, il resto dei suoi amici salivano le scale barcollando. «Cosa sta... ah! Gamberzilla!» urlò Percy. Frank si precipitò da Hazel. Era grappata al sartiame e ancora stordita dal flashback, ma gli fece comunque cenno che stava bene. Il mostro speronò di nuovo la nave. Lo scafo scricchiolò. Annabeth, Piper e Jason ruzzolarono a tribordo e per poco non rotolarono in mare. Leo raggiunse il timone. Fece volare le mani sui comandi. Dall'interfono, Festus comunicava a furia di click le falle sotto coperta, ma la nave non sembrava rischiare l'affondamento, almeno per il momento. Leo premette un pulsante e attivò i remi. Si potevano trasformare in lance, un'arma sufficiente per allontanare la creatura. Peccato che fossero incastrati. Gamberzilla doveva averli messi fuori allineamento e si trovava ormai a un tiro di sputo, per cui Leo non poteva utilizzare le valiste senza dare fuoco anche a Largo 2. «Come ha fatto ad arrivare così vicino?» gridò Annabeth, aggrappandosi a uno degli scudi del parapetto per tirarsi su. «Non lo so!» ringhiò Hedge. Si guardò intorno per cercare la mazza, che era rotolata dall'altra parte del cassero. «Che stupido!» si rimproverò Leo. «Stupido, stupido! Mi sono dimenticato il sonar!» La nave si inclinò ancora un po' dritta. O il mostro stava cercando di abbracciarli, o stava per ribaltarli. «Il sonar?» domandò Hedge. «Per tutti i flauti di Pan, Valdez! Se non ti fossi perso a fissare Hazel negli occhi, tenendole la mano per un'eternità! Che cosa?» gridò Frank. «Non è andata così!» protestò Hazel. «Non importa!» intervenne Piper. «Jason, puoi evocare qualche fulmine!» Il figlio di Giove si rimise in piedi a fatica. «Io...» scuotere la testa fu il massimo che riuscì a fare. Il temporale di prima lo aveva esaurito. Leo dubitò che potesse far scoppiare la candela di un motore, nelle condizioni in cui si trovava. «Persi!» esclamò Annabeth. «Puoi parlare con quel coso! Hai idea di cosa sia!» Il figlio di Posidone scosse la testa, evidentemente sconcertato. «Forse è solo curioso della nave! Forse!» I tentacoli del mostro menarono una sferzata così improvvisa sul ponte, che Leo non ebbe nemmeno il tempo di gridare «Attenti!» Un tentacolo colpi persi sul petto e lo spedì a schiantarsi lungo le scale. Un altro si attorcigliò intorno alle gambe di Piper e la trascinò tra le urla verso il parapetto. Dozzine di altri tentacoli si arrotolarono intorno agli alberi, circondando le balestre e tirando giù il sartiame. «All'attacco dei peli del naso!» Edge afferrò la mazza e si lanciò in azione, ma i suoi colpi rimbalzavano sui tentacoli senza provocare danni. Jason sguainò la spada. Tentò di liberare Piper, ma era ancora debole. La lamadoro affondava senza fatica nei tentacoli, ma prima che riuscisse a tagliarli, altri prendevano il loro posto. Annabeth sfoderò il pugnale. Si lanciò nella foresta di tentacoli, schivando e colpendo qualsiasi bersaglio trovasse sul proprio cammino. Frank tirò fuori l'arco. Sparò delle frecce oltre il fianco dell'argodù e sul corpo del mostro, piantandole nelle fessure del guscio, con il solo risultato di irritare la bestia, che mughiò e fece oscillare la nave. L'albero scricchiolò, come se stesse per spezzarsi. Avevano bisogno di maggiore potenza di fuoco, ma non potevano utilizzare le baliste. Dovevano sferrare un colpo che non avrebbe distrutto la nave. «Ma come?» Leo puntò gli occhi su una cassa di rifornimenti accanto ai piedi della figlia di Plutone. «Hazel!» gridò. «Apri quella scatola!» Lei esitò, poi vide la scatola a cui si riferiva l'amico. Sull'etichetta c'era scritto «Attenzione! Non aprire!» «Aprila!» insistette Leo. «Edge, prenda il timone! Ci porti verso il mostro o ci ribalteremo!» Il satiro danzò attraverso i tentacoli, con gli agili zoccoli da capra, scagliando colpi a destra e manca con entusiasmo. Si lanciò verso il timone e prese posto ai comandi. «Spero che tu abbia un piano!» urlò. «Un brutto piano!» Leo si precipitò verso l'albero maestro. Il mostro si addossò al largo due. Il ponte rollò all'improvviso di 45 gradi. Nonostante gli sforzi di tutti, i tentacoli erano troppo numerosi da combattere, sembravano capaci di allungarsi quanto volevano. Ben presto avrebbero avviluppato tutta la nave. Persi non era ancora ricomparso da sotto coperta. Gli altri stavano lottando per salvarsi la pelle contro mostruosi peli del naso. «Frank, facci guadagnare un po' di tempo!» gridò Leo correndo verso Hazel. «Puoi trasformarti in uno squalo o qualcosa del genere!» Il figlio di Marte provò a concentrarsi e in quell'istante un tentacolo lo investì in pieno, scaraventandolo in mare. Hazel urlò. Aveva aperto la cassa di rifornimenti e per poco non fece cadere a terra le due boccette di vetro che conteneva. Erano grandi come mele e contenevano uno scintillante liquido verde acido. Leo le afferrò, con la sensazione che il petto potesse implodergli per il senso di colpa. Aveva distratto Frank e forse lo aveva fatto uccidere, ma non poteva pensarci adesso. Doveva salvare la nave. «Forza!» Forse a Hazel una delle boccette, calde al tatto. «Possiamo uccidere il mostro!» «I salvare Frank!» Sperava che non fosse una bugia. Raggiungere il parapetto di Babordo fu più come scalare una montagna che camminare, ma alla fine ce la fecero. «Cos'è questa roba?» domandò Hazel, ansimando e stringendo con cura la boccetta. «Fuoco greco!» Hazel sgranò gli occhi. «Sei pazzo! Se si rompono brucerà tutta la nave!» «Nelle fauci!» disse Leo. «Infilaglielo giù nelle...» All'improvviso finì spiaccicato contro Hazel e il mondo si capovolse. Mentre venivano sollevati in aria, Leo si rese conto che erano bloccati insieme in un tentacolo. Lui aveva le braccia libere, ma dovette impiegare tutte le proprie forze per tenere stretta la boccetta. Hazel si divincolava. Aveva le braccia immobilizzate. La boccetta poteva rompersi in qualunque momento. E questo poteva essere molto pericoloso, per la loro salute e per tutta la nave. Si alzarono prima tre, poi cinque e infine dieci metri sopra il mostro. Leo intravide gli amici combattere una battaglia persa, gridando e menando colpi contro i peli del naso della bestia. Vide Hedge lottare per evitare che la nave si rivaltasse. Il mare era scuro, ma al chiarore della luna, Leo credette di scorgere un oggetto scintillante che galleggiava vicino al mostro. Forse il corpo privo di sensi di Frank Jung. «Leo, non riesco!» ansimò Hazel. «Lebracciami! Ti fidi di me?» «No! Neanche io!» ammise il figlio di Efesto. «Quando questo coso ci molla, trattieni il fiato! Qualsiasi cosa tu faccia, cerca di gettare la boccetta il più lontano possibile dalla nave! Perché... perché dovrebbe mollarci?» Leo fissò la testa del mostro. Era un colpo difficile, ma non c'erano alternative. Sollevò la boccetta che teneva nella mano sinistra, premette la destra contro il tentacolo ed evocò il fuoco nel palmo della stessa mano, una vampata incandescente e ben concentrata. Un fremito percorse tutto il tentacolo, mentre la pelle si ricopriva di vesciche. Il mostro sollevò le fauci, mughiando per il dolore, e Leo gli scagliò dritto in gola, la boccetta con il fuoco greco. Poi tutto divenne confuso. Leo sentì il tentacolo che li lasciava andare. Caddero! Udì un'esplosione soffocata e vide un lampo di luce verde dentro il corpo del mostro, che così somigliava a un gigantesco paralume rosa. Percepì l'impatto dell'acqua sulla faccia, come un mattone avvolto in un foglio di carta vetrata. Sprofondò nell'oscurità. Chiuse bene la bocca, tentando di non respirare, ma si accorse di stare perdendo i sensi. Nel bruciore dell'acqua salmastra, credette di vedere la sagoma confusa dello scafo della nave sopra di lui, un ovale scuro circondato da una corona verde infuocata. Ma non era sicuro che la nave fosse effettivamente in fiamme. Ucciso da un gamberetto gigante, pensò Leo con amarezza. Vi prego, fate che almeno l'argodù e sopravviva. Che i miei amici stiano bene. La sua vista cominciò a offuscarsi. I polmoni bruciavano. Proprio quando stava per cedere, una strana faccia volteggiò sopra di lui. Un uomo che assomigliava a Chirone, il loro mentore al campo mezzosangue. Aveva gli stessi capelli ricci, la stessa barba irsuta e gli stessi occhi intelligenti. Sembrava una via di mezzo tra un hippie selvaggio e un professore dall'aria paterna, se non fosse stato per il fatto che aveva la pelle del colore dei fagioli di lima. L'essere sollevò un pugnale in silenzio. Aveva un'espressione cupa di rimprovero, come a dire, fermo o non riesco a ucciderti per bene. Leo svenne. Quando si svegliò, Leo si chiese se non fosse nuovamente uno spettro in un altro flashback, perché galleggiava senza peso. I suoi occhi si adattarono lentamente alla luce fioca. Era ora. La voce di Frank aveva troppo riverbero, come se stesse parlando attraverso vari strati di cellofan. Leo tirò sulla schiena. O meglio, fluttuò su. Si trovava sott'acqua, in una grotta grande quasi come un garage per due macchine. Del muschio fluorescente ricopriva il soffitto, inondando la stanza di un bagliore tra il verde e il blu. Il pavimento era formato da un tappeto di ricci di mare, su cui sarebbe stato scomodo camminare, per cui Leo fu felice di galleggiare. Però non capiva come facesse a respirare senza aria. Frank levitava accanto a lui nella posizione del loto. Con la faccia paffuta e l'espressione burbera, sembrava un Buddha che aveva raggiunto l'illuminazione, senza però esserne entusiasta. L'unica uscita della grotta era bloccata da un'enorme valva di ostrica, la cui superficie scintillava di madre perla, rosa e turchese. Se quella grotta era una prigione, almeno aveva una porta strepitosa. «Dove siamo?» chiese Leo. «Dove sono tutti gli altri?» «Non ne ho idea», bofonchiò Frank. «Per quanto ne so, quaggiù siamo solo io, tu e Hazel. Questi uomini pesci cavallo hanno preso Hazel un'oretta fa e mi hanno lasciato qui con te». Il tono di Frank, che arriva alla perfezione, che non approvava quella scelta. Non sembrava ferito, ma Leo si accorse che non aveva più né l'arco né la faretra. Preso dal panico, si toccò la vita. La cintura degli attrezzi era scomparsa. «Ci hanno perquisito», spiegò Frank, «e ci hanno portato via tutto quello che assomigliava a un'arma». «Chi?» domandò Leo. «Chi sono questi pesci cavallo? questi uomini, pesci cavallo», chiari Frank, anche se il concetto non era molto chiaro. «Devono averci preso quando siamo caduti nell'oceano e ci hanno trascinato qui, ovunque sia». Leo ripensò all'ultima cosa che aveva visto prima di svenire. La faccia di un uomo barbuto. «Il mostro? Largo 2 è a posto?» «Non lo so», rispose Frank in tono cupo. «Gli altri potrebbero essere nei guai, feriti, oppure... oppure peggio». «Ma immagino che a te interessi più la nave dei tuoi amici». Leo ebbe la sensazione di sbattere di nuovo la faccia contro l'acqua. «Ma come ti permetti di...» Poi capì perché Frank era così arrabbiato. Per via di flashback. Le cose erano accadute così in fretta durante l'attacco del mostro che Leo se n'era quasi dimenticato. Edge aveva fatto quello stupido commento su Leo e Hazel che si tenevano per mano e si guardavano negli occhi. E il fatto che lui subito dopo avesse scaraventato Frank in acqua non aveva di certo semplificato la situazione. Tutto a un tratto trovò difficile incrociare lo sguardo di Frank. «Senti, amico, mi dispiace averci messo in questo casino. L'ho combinata grossa». Trasse un respiro profondo, cosa che gli sembrò assolutamente normale considerato che era sott'acqua. Io e Hazel che ci tenevamo per mano non è come credi. Mi stava mostrando un flashback del suo passato per tentare di capire il mio collegamento con Sammy. L'espressione arrabbiata di Frank cominciò a distendersi, cedendo il passo alla curiosità. «Hazel la... tu l'hai capito?» «Sì», rispose Leo. «Beh, più o meno. Dopo non abbiamo avuto l'opportunità di parlarne per via di gamberzilla. Ma Sammy era il mio bisnonno», raccontò a Frank quello che avevano visto. Non aveva ancora capito fino in fondo la stranezza della faccenda, ma in quel momento, tentando di spiegarla ad alta voce, Leo faceva fatica a crederci. Hazel era stata innamorata del suo bisabuelo, un uomo che era morto quando lui era un neonato. Leo ricordava vagamente di alcuni membri più anziani della famiglia che chiamavano Sammy Junior il nonno. Quindi Sammy Senior era Sammy, il bisabuelo di Leo. A un certo punto, tia Callida era in persona. Aveva parlato con Sammy per consolarlo e dargli una vaga idea del futuro. E ciò significava che la dea aveva plasmato la vita di Leo addirittura generazioni prima che nascesse. Se Hazel fosse rimasta negli anni quaranta del novecento e avesse sposato Sammy, Leo avrebbe potuto essere il suo bisnipote. «Oh, dei», commentò il figlio di Efesto alla fine del racconto. «È incredibile, ma giuro sullo stige che è quanto abbiamo visto». Frank aveva la stessa espressione di gamberzilla. Occhi vitre sgranati e bocca spalancata. «A Hazel piaceva il tuo bisnonno. È per questo che ne piaci tu? Lo so che è strano, credimi. Ma non mi piace, Hazel. Non in quel modo. Non ho intenzione di provarci con la tua ragazza». Il figlio di Marte aggrottò le sopracciglia. «No?» Leo sperò di non arrossire. Sinceramente non aveva idea di quello che provava per Hazel. Lei era fantastica e carina, e lui aveva un debole per le ragazze fantastiche e carine. Ma il flashback aveva ingarbugliato parecchio i suoi sentimenti. E per di più, la nave era nei guai. «Ma immagino che a te interessi più la nave dei tuoi amici», aveva detto Frank. «Non era vero, giusto?» Il padre di Leo, Efesto, una volta aveva ammesso che non era bravo con le forme di vita organica. E sì, certo, Leo si era sempre sentito più a suo agio con le macchine che con le persone. Ma i suoi amici ci teneva davvero. Piper e Jason li conosceva da più tempo, ma anche gli altri erano importanti per lui. Perfino Frank. Erano come una famiglia. Purtroppo, era passato così tanto tempo da quando Leo ne aveva avuta una che non si ricordava più neppure che effetto facesse. Certo, l'inverno precedente era stato nominato capogruppo della casa di Efesto, ma aveva trascorso quasi tutto il tempo a costruire la nave. Gli piacevano i suoi compagni di casa. Sapeva come lavorare insieme a loro, ma li conosceva davvero. Se Leo aveva una famiglia, quella era formata dai semidei a bordo del Largo 2 e magari anche da Edge, cosa che non avrebbe mai ammesso ad alta voce. Sarai sempre l'escluso, lo aveva avvertito la voce di Nemesi. Leo cercò di scacciare quel pensiero. Bene, quindi si guardò intorno. Dobbiamo escogitare un piano? Come facciamo a respirare? Se siamo dentro l'oceano, non dovremmo essere schiacciati dalla pressione dell'acqua? Frank scrollò le spalle. Una magia dei pesci cavallo, immagino. Il tizio verde mi ha toccato la testa con la punta di un pugnale. Da lì in poi ho cominciato a respirare senza problemi. Leo osservò l'enorme valva di ostrica. Puoi buttarla giù per farci uscire? Puoi trasformarti in uno scuolo martello o qualcosa del genere? Frank i mutamenti di forma non funzionano più. Non so perché. Forse mi hanno lanciato una maledizione, o forse sono troppo incasinato per concentrarmi. Eisel potrebbe essere nei guai. Dobbiamo uscire di qui. Leo nuotò verso la porta e passò le dita sull'ostrica. Non trovò serrature e nessun altro meccanismo. La porta si apriva solo per magia oppure a forza di braccia, e nessuna delle due era una specialità del figlio di Efesto. Ho già provato, disse Frank. Anche se usciamo di qui, non abbiamo armi. Hmm. Leo sollevò una mano. Chissà. Si concentrò e del fuoco guizzò sulle sue dita. Per una frazione di secondo Leo ne fu felice, perché non si aspettava che funzionasse sott'acqua. Poi il suo piano cominciò a funzionare anche troppo bene. Il fuoco gli salì lungo il braccio e su tutto il corpo, finché lui non fu completamente rivestito da un sottile strato di fiamme. Tentò di respirare, ma innalava calore puro. Leo! Frank agitò le braccia all'indietro, come se cadesse da uno sgabello. Invece di precipitarsi ad aiutare il compagno, abbracciò il muro per allontanarsi il più possibile. Leo si impose di mantenere la calma. Capì la situazione. Il fuoco di per sé non poteva fargli male. Ordinò alle fiamme di spegnersi e contò fino a cinque. Trasse un respiro corto. Innalò di nuovo ossigeno. Frank smise di tentare di fondersi con il muro della grotta. «Stai... stai bene?» «Sì», bofonchiò Leo. «Grazie per l'aiuto. Mi... mi dispiace». Frank sembrava così terrorizzato e pieno di vergogna che per Leo fu difficile avercela con lui. «Ho solo... cosa è successo?» «Una magia bella e buona», rispose il figlio di Efesto. «C'è uno strato sottile di ossigeno intorno a noi, come una seconda pelle. E si rigenera da solo. È per questo che respiriamo e restiamo asciutti. L'ossigeno ha alimentato il fuoco. Peccato che il fuoco mi abbia anche soffocato». «A me davvero non...» Frank trattenne il fiato. «Non mi piace il modo in cui evochi il fuoco». Cominciò ad addossarsi di nuovo al muro. Leo non voleva, ma non poteva fare a meno di sorridere. «Ehi, amico, non ho intenzione di attaccarti». «Fuoco», ripete Frank, come se quella parola spiegasse tutto. Leo si ricordò quello che gli aveva detto Hazel. «Il fuoco innervosiva, Frank. Aveva già visto quel disagio sulla faccia del figlio di Marte, ma non lo aveva mai preso sul serio. Frank sembrava molto più potente e spaventoso di lui. Forse aveva avuto una brutta esperienza con il fuoco», si disse Leo. «Sua madre era morta nell'incendio di un'officina e tutti avevano dato la colpa a lui. Era cresciuto sentendosi dare del fenomeno da baraccone, del piromane. Perché tutte le volte che si arrabbiava, le cose prendevano fuoco». «Scusa se ho riso», disse e lo pensava davvero. «Mia madre è morta in un incendio. Capisco che si possa avere paura del fuoco. Ti è successo qualcosa del genere?» Frank sembrava soppesare le parole. «Casa mia. La casa di mia nonna. È stata distrutta da un incendio. Ma c'è dell'altro. Fissò i ricci di mare sul pavimento. Annabeth mi ha detto che potevo fidarmi dell'equipaggio. Perfino di te». «Perfino di me, eh?» Leo si domandò come fosse saltato fuori quel discorso. «Cavoli, sono commosso». «Il mio punto debole», cominciò Frank, come se le parole gli tagliassero la bocca. «C'è questo pezzetto di legno bruciato». La valva di ostrica si mosse. Leo si girò e si ritrovò faccia a faccia con l'uomo barbuto, che in realtà non era affatto un uomo. Era di gran lunga la creatura più strana che avesse mai incontrato. Dalla vita in su era più o meno umano. Un individuo magro, a torso nudo, con un pugnale infilato nella cintura e una fascia di conchiglie, portata a tracolla come una bandoliera. Aveva la pelle verde, la barba castana incolta e i capelli piuttosto lunghi, tenuti all'indietro da una bandana di alghe marine. Sulla testa gli spuntavano un paio di chelle di aragosta a mo' di corni. Leo pensò che non assomigliava granché a Chirone. Ricordava di più il poster che sua madre teneva in officina, il vecchio rivoluzionario messicano Pancho Villa, con l'aggiunta delle conchiglie e dei corni di aragosta. Dalla vita in giù la faccenda era più complessa. Aveva le zampe anteriori di un cavallo, un po' come un centauro, ma nella zona posteriore il corpo si trasformava in una coda di pesce lunga quasi tre metri, che terminava con una pinna caudale color arcobaleno. Ecco cosa aveva voluto dire Frank parlando di uomini pesci cavallo. Mi chiamo Bitos, esordì il tizio verde. Interrogerò Frank Giang. Aveva un tono di voce calmo e deciso, che non lasciava spazio alla discussione. Perché ci hai catturato? chiese Leo. Dov'è Hazel? Bitos socchiuse gli occhi, con un'espressione della serie questa insulsa creatura ha osato rivolgermi la parola. Invece sentenziò, tu, Leo Valdés, andrai con mio fratello. Tuo fratello? Leo si accorse che c'era una figura molto più grande che incombeva alle spalle di Bitos e proiettava un'ombra così gigantesca da riempire tutto l'ingresso della grotta. Sì, ribatte Bitos con un ghigno. Cerca di non far arrabbiare a Fros.